Parazzoni 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 Amelia è in acciaio inox 1810. La guarnizione e tutti i componenti del coperchio sono facilmente rimovibili e consentono una pulizia accurata. Con Amelia risparmi tempo fino al 20% rispetto ad una pentola a pressione tradizionale nella massima sicurezza. Per aprire la pentola a pressione basta ruotare il coperchio di 90 gradi e inclinarlo leggermente. Il coperchio che si inserisce sotto il bordo del corpo pentola è la prima sicurezza della pentola pressione Amelia. Amelia è l'innovativa pentola a pressione che permette una cottura rapida, facile e sicura. Amelia grazie al suo triplo fondo acciaio alluminio acciaio può essere usata su tutte le fonti di calore compresa l'induzione. Realizza tante gustose e salutare ricette con Amelia. Il risotto mantiene la sua consistenza, la carne rimane morbida e gustosa, le verdure sono rapide da cucinare e mantengono tutte le proprietà nutrizionali intatte. Con la pentola a pressione Amelia cucinare è facile, rapido, sicuro e naturale.